Pertanto dovremmo fare quantomeno quella che si fa negli altri diocesi, pur essendo questa la diocesi che più è messa in vista come la diocesi ministerialmente ordinata. Una settimana scorsa sono andato a Caltanistecca per la giornata ministeriale proprio del Ministero di intercessione per i sofferenti e di tutta la diocesi mancavano i fratelli di un gruppo che non erano potuti venire, ma i quindici gruppi della diocesi erano tutti presenti. Pertanto del Ministero, ogni ministero, cioè ogni gruppo ha il suo ministero di intercessione per i sofferenti, composto da quattro, minimo cinque, sei, qualcuno diciotto, venti, secondo il numero del gruppo per cui erano presenti di centocinquanta persone, oltre la popolazione che erano presenti di diversi gruppi per la messa, ma quelli adibiti al ministero erano centocinquanta. C'era l'equip diocesana composta da quindici persone responsabili di ogni gruppo e altre quindici persone che lavorano al centro di Caltanistecca in questo ministero di intercessione per gli infermi. Hanno un'attività molto sviluppata, ogni gruppo esercita così ogni settimana il ministero, lo esercitano in casa, lo esercitano nelle famiglie sempre in gruppo, lo esercitano negli ospedali, lo esercitano con preghiere lunghe davanti a Gesù sacramentato, con preghiere, suppliche, digiuni, o resanze, ritiri. È un ministero molto bene organizzato, molto vivo. Ora noi vorremmo che anche questo gruppo di, o meglio, questo ministero si è ben sviluppato, si è ben organizzato e funzioni bene. Qui noi abbiamo 35-40 gruppi. Se ogni gruppo ha il suo ministero, per lo meno 5-6 persone, qui dovrebbero esserci, proprio del ministero, proprio del ministero, 200 persone. Oltre l'equipro di Ocesano. E che questi ministeri, o perché non sono ben organizzati, o perché ancora non si sono imbarcati, sebbene siamo stati i primi a incominciare, questi ministeri stentano a camminare e ad operare. E forse perché c'è la cattiva abitudine che ognuno fa, per conto proprio, qui per esempio a classe di testa, non c'è uno solo che faccia di testa propria, per conto proprio, né di liberazione, né di guarigione, né di consolazione. Comunque è bene organizzato. Mi hanno domandato, lì il responsabile del gruppo, come si va a Palermo, io adesso a Palermo si va molto meglio di quei, per cui diciamo di più, andiamo molto meglio di qui, senza sapere se qui non si va come l'altro. E allora noi dobbiamo proporre una scheda che già ho dato a, non so se vi è stata distribuita, vi è arrivata nei gruppi, non so io, c'è una scheda che è stata distribuita, non so io, questa scheda, non mi avete ricevuto, dovrebbe essere data, inviata a tempo. E c'è in questa scheda, questo, scuola di formazione permanente ai ministeri, ministeri di intercessione per i sofferenti, preghiera di guarigione, liberazione, consolazione. Chi è responsabile del ministero? Quali sono i fratelli inviati dal pastorale alla scuola di formazione permanente del ministero? Poi la firma, firma dei responsabili del ministero e firma del coordinatore del gruppo. Questa scheda non vi è arrivata, no? E i gruppi. E devi arrivare ad ogni costo prima che ti faccia la seconda lezione, la seconda giornata. Come norma, tutti quelli che esercitano il ministero, e siccome tutti siamo sulla linea ministeriale, tutti quelli che esercitano il ministero debbano frequentare la scuola. Non perché si dicono cose straordinarie, ma perché nella scuola ci danno quelle direttive necessarie, normalizzanti, necessarie per tutti. Questo ci sta facendo in campo nazionale, ed io sono stato incaricato, appunto, in campo nazionale, di fare in ogni regione questo ministero, di organizzare in ogni regione. In campo regionale sono stato incaricato di ordinarlo in ogni diocese, per cui il primo interessato a che questo ministero cammini sono io. E mi duole il fatto che non c'è questa solicitudine, questa sensibilità a questo ministero, sebbene poi tutti sono pronti a fare preghiere di guarigione e di liberazione. Mi si raccomandava che se per gli altri ministeri la partecipazione alla scuola è una cosa buona, ma non necessaria. che si diceva, là in alto, che per questo ministero così delicato, a cui i vescovi dell'Italia stanno molto attenti, la scuola è necessaria, la formazione è necessaria. Per cui in campo nazionale io ho disposto due o tre giorni, una tre giorni a settembre in campo nazionale dove dovrebbero andare tutti i responsabili diocesani e tutti i responsabili dei gruppi, almeno i responsabili di un gruppo, e poi un altro, più speciale ancora, a novembre, dove si tratteranno dei temi specifici riguardanti alcuni aspetti del ministero. Per cui abbiamo tre giorni a settembre e tre giorni a novembre. Oltre ci sarà una giornata nazionale per il ministero, fetti in campo nazionale. In campo regionale abbiamo la tre giorni di settembre, ma poi abbiamo la riunione ministeriale ogni due mesi, e la giornata ministeriale di tanto in tanto qui a Palermo, ci prepariamo con la scuola di formazione permanente che non si trova altrove, ed è come una novità, ma che intendiamo così proporre anche in tutte le altre diocesi della Sicilia. ecco perché mi interessa che gli uditori siano qualificati, o siano persone effettivamente impegnate in questo ministero, che Dio chiama a questo delicato ministero. e questa scuola non è per altri, sì, gli uditori ci possono essere, però è una scuola specifica per quelli i quali sono in questo tridice ministero dell'unico ministero in intercessione. tutti quelli che lavorano nella guarigione, tutti quelli che lavorano nella liberazione, tutti quelli che lavorano nella consolazione, sono i tre rami di quest'unico ministero, debbano essere qui presenti perché è necessaria una formazione di base. daremo una formazione di base e poi una formazione di giudicare. La formazione di base per quest'anno noi non la possiamo assolvere, ma nel programma è così. il misterium iniquitatis e il misterium salutis, il misterio dell'iniquità e il misterio della salvezza, proprio per il ministero di liberazione, in modo che si vada con i piedi di piombo, si vada a ragione veduta e si sappia quello che si compie, si sappia dove mettere i piedi, dove mettere le mani. perché se non si sa in questo difficile ministero, il pericoloso ministero, come agire, si resta avviluppati nella rete del maligno, come a qualcuno è rimasto avviluppato, oppure non si conviene a nulla. così anche nel ministero di guarigione, che si è esercitato con molta delicatezza i vestiti che stanno andando lì a guardare, ha questo ministero molto delicato, e noi indicheremo la strada da percorrere per l'esercizio corretto di questo ministero. così anche nel ministero di consolazione, che è molto delicato, bisogna tracciare le piste, in alcuni luoghi c'è la corrispondenza, c'è l'adorazione, c'è il telefono, ascolto, ci sono i genacoli di consolazione, a trovare tutto questo non c'è, ma bisogna organizzarci, se vogliamo fare qualche cosa di concreto, ed è quello che noi ci proponiamo di fare quest'anno, se qui ci saranno giuritori inviati dai pastorali, perché è una cosa molto importante, qui c'è il vetto, lasciatemi un poco sfogare, il vetto che ognuno pesca nei gruppi, va in quel gruppo e pesca chi vuole, ma in quel gruppo e pesca chi vuole, non si va al pescaggio delle persone, nessuno dovrebbe andare ad un ministero, qualunque esso sia, o evangelizzazione, o catechesi, o canto, che non sia inviato dal pastorale, e il pastorale che decide chi deve andare, deve essere, una segnalazione ci può fare, ma deve essere d'accordo col pastorale, non può venire il capo del ministero, ammettiamo, io cesano di evangelizzazione e va in questo gruppo, in questo gruppo, in questo gruppo, questo è fuori luogo, è il pastorale che deve essere responsabilizzato e deve essere il pastorale ad inviare ad ogni singolo ministero i fratelli che crede all'altro, questo si è ben noto, così fa la Santa Sede quando deve agire, fa il Papa quando deve agire in una diocese, interpelle il Vescovo, così fa il Vescovo quando deve agire in una parroccia, interpelle il parroco, questo è il modo di agire nella Santa Madre Chiesa, come il Papa non sceglie nessuno senza prima interpellare il Vescovo, come il Vescovo non sceglie nessuno senza prima interpellare il parroco, come il Vescovo non sceglie nessuno religioso senza prima interpellare il superiore di quel religioso, così almeno dobbiamo fare noi. Pertanto questo vale anche per i responsabili di tutti i ministeri miei chiesani, in modo che nessuno deve andare se non è autorizzato dal proprio pastorale, per cui anche se siete invitati ad andare a questo o quest'altro ministero, abbiate sempre il beneplacito del vostro pastorale, in modo che tutto sia fatto in regola. Tu prendi nota, E allora, oggi facciamo una lezione così introduttiva, un'involuzione sommaria a questo ministero, perché l'abbiamo chiamato ministero di intercessione per i sofferenzi, perché sono giunte tante le mentere da parte dei Vescovi, i quali non sentono bene quando noi diciamo ministeri di guarigione. E che cos'è? E che fate? Guarigione così, come se dipendesse da voi. Tantomeno quando noi diciamo ministeri di liberazione, ma la liberazione appartiene qui all'esorcista. Ministeri di controllazione, beh, qui non dicono tanto. E allora, per evitare le critiche dei Vescovi, abbiamo derottato su questa dicitura onnicomprensiva il ministero di intercessione per i sofferenzi, intendendo dire che i sofferenzi sono sofferenzi che hanno bisogno di riparazione, sofferenzi che hanno bisogno di riparazione, sofferenzi malati che hanno bisogno di guarigione, sofferenzi depresse e controllati che hanno bisogno di controllazione. per cui il ministero si articola in questi tre rami preghiera di liberazione, preghiera di guarigione, preghiera di controllazione. però tutti e tre questi rami fanno parte di un unico ministero, il ministero di intercessione per i sofferenzi. abbiamo messo la parola di intercessione perché il ministero si svolge sempre attraverso la preghiera, non sono interventi che noi facciamo, tanto per dire che il ministero di liberazione non è che noi interveniamo con l'esorcismo, con pratiche magiche, con passaggi di mano, con dare a bene ai demoniati pozzoni, col fare crogono, facciamo la guarigione, procediamo per preghiera, intercediamo presso Dio, quando facciamo consolazione, noi facciamo una preghiera di consolazione. Dunque, ministero di intercessione per i sofferenzi, intercessione per i sofferenzi, la quale si articola in preghiera per la liberazione, preghiera per la guarigione, preghiera per la consolazione. Così si dà la fissionomia al ministero e si delimitano i campi di intervento e sì, così, si accendono alle modalità di intervento. Chi sono i destinatari? Questi nostri sono ministeri interni, perché qualche volta si spasa, non sono ministeri esterni, sono ministeri interni, perché per i ministeri esterni in Dioce ci si pensa il Vescovo, in parrocchia ci pensa il parroco. Il nostro campo è sempre interno, compresa la evangelizzazione. per cui, quando noi facciamo così il ministerio di evangelizzazione, sempre si intende all'interno del gruppo, all'interno del rinnovamento. solo e eccezionalmente su ricchezza, noi possiamo fare il ministero verso persone strane. con il ministero per esempio di evangelizzazione, chi va dentro, dentro il gruppo, non fuori del gruppo, soltanto eccezionalmente quando un parroco o un Vescovo chiede un esercizio di evangelizzazione, lo chieda al capo, al rappresentante di Ocetano, il quale interesserà il ministero competente che disporrà le modalità di intervento secondo le esigenze e le indicazioni del Vescovo. vogliamo mettere i punti su Ghiè per far dire bene. Così nel nostro ministero noi abbiamo come prime destinatari i fratelli del gruppo oppure quei fratelli che vengono al gruppo dal di fuori ma l'esercizio avviene nella sede del gruppo non andiamo in giro se non o per il messo del parroco o per il messo del Vescovo in alcuni casi. Altrimenti noi ci accettiamo dentro il gruppo sia la liberazione sia la guarigione sia la consolazione. Per cui in finitosi diciamo i destinatari sono i fratelli del gruppo o gli altri fedeli fuori del gruppo che vengono alla sede del gruppo. E' qui che noi esercitiamo il nostro ministero che resta sempre interno interno non è ministero esterno i ministeri esterni sono di competenza dell'ordinario del luogo che è di competenza della gerarchia ecclesiastica. altrimenti possiamo fare un'inchiesta parallela ossia organizzazioni che parallele. Ricordo per esempio con l'Arcivescovo noi religiosi una volta abbiamo proposto al Vescovo di fare una evangelizzazione in un rione e il Vescovo ci disse sì potete farlo però col metodo che vi dico io non col metodo vostro perché l'apostolato appartiene a me io vi indicherò quello che dovete fare come dovete farlo e dovete farlo senza etichetta senza etichetta non etichettatevi come forse dei missionari degli inviati del Vescovo ed eravamo religiosi quando noi abbiamo fatto le missioni qui a Palermo e il Vescovo ingaggiò tutti i gruppi ha voluto che i gruppi non portassero etichette l'organizzazione fu quella dell'Archivescovo i modi di agire quello dell'Archivescovo nessuno poteva portare un proprio modo di evangelizzare questa è l'opinione dei Vescovi per cui misteri di evangelizzazione che è più esposto deve essere fatto all'interno e quando è all'esterno in accordo con il Vescovo o con il Parroco secondo le modalità concordate così anche per il nostro ministero il nostro ministero è interno però quando ci viene richiesta come mi è stata richiesta una preghiera per tutti nella giornata degli ammalati del giorno 11 mi hanno indicato come si doveva agire e così io agito secondo il loro desiderato e ho fatto nel modo desiderato la cerimonia per gli ammalati alla televisione per cui quando noi agiamo al di fuori dobbiamo stare alle indicazioni che ci vengono dalle autorità che governano fuori qualunque per gli ammalati